Due amiche, una sa il capotto tutto stroppo, sarebbe rotto, l'altra una gran peliccia, tutto in gioiellato, un rossetto rosso, quella con il capotto rotto le dice Maria toglimi una curiosità, come hai fatto a fare tutti questi soldi? Mi sono messa a fare il lavoro più antico del mondo, come una sere come te si è messa a fare queste cose? E' cominciato così una sera per scherzo, tornavo a casa a piedi, si ferma uno con la macchina e mi fa Ma quant'è? Me l'ha preso per una di quelle, sono stato al gioco e gli ho detto 100 euro Signore, ne ho solo 30, allora niente Come niente signore, almeno mi guardi? Rina, sei tolti i pantaloni, io una cosa così non l'avevo mai vista E cosa hai fatto? Le ho prestato 70 euro